Notizia di Prato Tg, a tutti buonasera. Per 5 anni evita il carcere grazie ad altrettante gravidanze. Oggi però per una donna di 26 anni si sono aperte le porte della cella. Sentite Leonora Barbieri. Ha evitato il carcere con continue gravidanze, una all'anno per un totale di 5. L'ultimo parto risale al maggio scorso. È a questo punto che la macchina della giustizia ha serrato le fila per la 26enne Rom di Prato che ieri mattina è stata accompagnata al carcere di Sollicciano a Firenze dalla squadra mobile pratese che ha dato corso all'ordine di carcerazione per il reato di furto aggravato in concorso commesso a Casteggio in provincia di Pavia il 19 dicembre 2006 quando la donna era minorenne. Dovrà scontare una condanna a 6 mesi di reclusione e il pagamento di una multa da 160 euro. L'ordine di cattura è stato emesso il 29 ottobre del 2013 ma è stato più volte sospeso per le continue gravidanze della giovane al termine della quinta il provvedimento è stato nuovamente emesso dalla procura presso il tribunale dei minori di Milano. Ieri è stato eseguito dal personale della mobile pratese che ha trovato la giovane Rom nella sua abitazione con i cinque figli. Una storia che ricorda moltissimo un episodio del film Ieri, Oggi e Domani di Vittorio De Sica con protagonista Sofia Loren. Chissà se anche per la 26enne Rom ci sarà la grazia come è capitato ad Adelina Sbaratti. Scontro tra una bici e un taxi ieri mattina in via Monnet in coma. Il cinquantenne che è rimasto coinvolto in questo incidente ha riportato una lesione cerebrale che non è operabile. È rimasta ferita nello stesso incidente anche la moglie. Sentite la cronaca. Sono ancora gravi le condizioni del cinquantenne di nazionalità cinese rimasto coinvolto assieme alla moglie nell'incidente stradale avvenuto nella mattina di ieri sulla rotatoria tra via Monnet e via Cavour. L'uomo, come spiega il bollettino dell'ospedale di Prato, è in coma per una gravissima lesione cerebrale non operabile. Quadro clinico in via di miglioramento invece per la donna che come il marito è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. I coniugi erano in sella a una bicicletta e stavano attraversando la strada quando sono stati urtati da un taxi condotto da un pratese di 60 anni. Le condizioni del cittadino cinese sono apparse molto gravi fin dal primo momento, tanto che è stato rianimato sul posto prima di essere trasferito al Santo Stefano. I chirurghi hanno affrontato l'emergenza allestendo due sale operatorie per consentire ad altrettante equip di lavorare su entrambi i feriti a cui è stata asportata la milza. Il sostituto procuratore Giampaolo Mocetti ha aperto un'inchiesta sull'incidente e al momento nel fascicolo sono finiti i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale in attesa degli ulteriori accertamenti utili a ricostruire la dinamica. La bicicletta e il taxi sono stati sequestrati. È stato individuato il conducente del furgone che lo scorso 12 agosto a Pietrasanta, travolto con un furgone in viale Unità d'Italia, un ventenne pratese che viaggiava in bicicletta senza poi fermarsi. Si tratta di un italiano di 33 anni. L'uomo, rintracciato dalla Polizia Stradale di Lucca, è stato denunciato per lesioni personali gravi e omissione di soccorso. Il ventenne investito è tuttora ricoverato nel reparto di neurologia dell'ospedale Versilia per un trauma cranico. Il leso, un altro giovane che si trovava col ventenne, anche lui in bici, quando si è verificato l'incidente, sulla base delle testimonianze raccolte, spiega la Polstrada. Le indagini si sono orientate appunto alla ricerca di un furgone e le ricerche hanno portato a un 33enne. L'uomo si è giustificato dicendo di non ricordare l'impatto anche a causa di vuoti di memoria dovuti a un precedente incidente. Il furgone è stato sequestrato, l'uomo ovviamente è stato denunciato. Cessione del Prato, revoca dello stadio, una vicenda che vi abbiamo raccontato nei dettagli per molte edizioni del nostro telegiornale. Ebbene, in questi giorni il vice sindaco Faggi è stato convocato e sentito come persona informata sui fatti. Sulla base delle cose che conosco e che so, ho ripercorso tutta la vicenda ricostruendo gli eventi per come si sono succeduti. Così il vice sindaco e assessore allo sport Simone Faggi, che nei giorni scorsi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta aperta dal procuratore Giuseppe Nicolosi, intenzionato a mettere in fila i tanti elementi di una storia che sembrava dovesse dare all'ACI Prato una nuova proprietà dopo 40 anni di gestione Toccafondi e che invece alla fine si è trasformata nella lite tra la società di calcio e il comune. Una lite tra pubblico e privato con in mezzo lo stadio Lungo Bisenzio, la cui concessione disdetta dalla società a maggio, ma poi rinnovata e revocata dall'amministrazione comunale nel giro di pochi giorni a metà luglio, è costata al Prato il mancato ripescaggio in serie C. Il vice sindaco è stato convocato e sentito dalla squadra mobile, delegata dal procuratore. In particolare Faggi è stato chiamato a riferire sulla scelta dell'amministrazione comunale di revocare il rinnovo della concessione dello stadio, vincolando successivamente la restituzione alla vendita della società. Un tira e molla finito malissimo tra accuse reciproche. Da una parte il comune, sindaco in testa, che ha rimproverato a Toccafondi di averlo coinvolto nella cessione del Prato, ma di aver messo in piedi un'operazione poco chiara, dall'altra Paolo Toccafondi, che ha rivendicato di aver fatto tutto il possibile per vendere e che a far naufragare il progetto è stato alla fine il mancato ripescaggio in serie C, che invece era la condizione posta dall'acquirente, l'avvocato italo-canadesi Joseph Romano, per mettersi a capo della società Biancazzurra. Ecco che il procuratore Nicolosi, che nei prossimi giorni sentirà come persone informate sui fatti anche due dirigenti del comune, vuole accertare la fondatezza dell'operato dell'amministrazione rispetto a una trattativa di vendita esclusivamente privata. La domanda, in altre parole, è poteva il comune revocare lo stadio a Toccafondi dopo averglielo concesso e legare la restituzione alla vendita della società, considerato che lo stadio è un bene pubblico e la trattativa per l'accessione del Prato riguardava solo privati? La procura ha acquisito una serie di documenti in Palazzo Comunale qualche giorno prima di Ferragosto. Altri sono arrivati con gli esposti incrociati, depositati dal sindaco Biffoni e dal patron Toccafondi. Volevano trascorrere le vacanze estive all'isola d'Elba e avevano già dato 1200 euro di caparra per una casa in una delle località più famose dell'arcipelago toscano, ma l'abitazione non esiste o meglio esiste, ma appartiene ad altre persone rispetto a chi ne ha pubblicizzato l'affitto sul web e sui social e ha intascato la caparra, vale a dire a due quarantenni italiane residenti a Milano specializzate in truffe del genere, a finire nella loro rete due coppie pratesi che si sono accorte del raggiro solo quando le donne sono sparite nel nulla, fortunatamente prima di partire per le vacanze, purtroppo però dopo il bonifico da 1200 euro versato su un conto corrente di una banca di Biella. Le coppie hanno sporto denunce ai carabinieri di Iolo che attraverso accertamenti bancari sono riusciti a identificare le due truffatrici denunciate a piede libero per truffa in concorso. Sono a mezz'asta e listate a lutto la bandiera italiana e quella europea aissate sul Palazzo Comunale in segno di Cordoglio per le vittime del crollo del Ponte Morandi sulla A10 a Genova. Le bandiere rimarranno a mezz'asta anche domani per il lutto nazionale e i funerali dei 39 morti, bandiere a mezz'asta anche sul Palazzo della Provincia di Prato. Sorvegliati speciali cavalcavia lungo l'autostrada, intanto parte la ristrutturazione del ponte della Passerella. Sentite, Alessandra Grati. Tutti i cavalcavia della A11 che attraversano il territorio pratese saranno monitorati da autostrade per l'Italia, anche se al momento non ci sono pericoli. Gli interventi della terza corsia dell'autostrada, sappiamo la discussione che c'è su questo, però quantomeno l'aspetto positivo è che in questo noi abbiamo chiesto e ottenuto allo Strade per l'Italia di sistemare tutti i nostri ponti, tutti i nostri cavalcavia, Iolo, Galciana, e attraverso il Comune di Prato, per essere sicuri che siano tutti rimessi a posto, siano comunque monitorati e controllati. Intanto a giorni partiranno i lavori per il consolidamento della Passerella. Il 27 agosto partiranno lavori già programmati ovviamente in precedenza, la Passerella per la sistemazione, il rinforzo del ponte, il rinforzo, la sostituzione delle spallette, la risistemazione della pavimentazione, insomma proprio un lavoro abbastanza profondo. Sperando appunto si concluda il prima possibile, anche perché poi riapre l'asilo lì vicino, però ecco, quello è uno degli interventi. Noi monitoriamo il Ponte alla Vittoria, che anche l'anno scorso era stato segnalato, alcuni cittadini ci abbiamo mandato le fotografie per alcune copie, ma è stato controllato e al momento, secondo i tecnici, non dà problemi di alcun genere. Altri danno meno problemi, al momento sono un po' più recenti. Ogni anno l'amministrazione investe 150 mila euro per la manutenzione delle infrastrutture, ma i fatti di Genova contribuiranno a mantenere alta l'attenzione. Ovviamente quando succedono fatti, ma è quello di Genova, rafforzeremo i controlli nel senso che vogliamo una garanzia in più. Vi ricordate alcuni anni fa cosa successe alle cascine di Firenze, con la caduta di un albero che crollò su un passeggino, e lì in questi anni noi abbiamo monitorato a lungo i nostri alberi. Purtroppo ogni tanto vanno tagliati, dispiace, dispiace a tutti, però sono interventi. Lo stesso faremo appunto con le infrastrutture e cavalcavia che ci sono nella nostra città. Ed era questa la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Arrivederci.